Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, stiamo in partenza per Firenze, vi racconteremo tutta la vostra giornata, tutta, tutta, adesso ti avendremo, a tra poco, ciao, ciao. Siamo partiti, non so, non so, non so, stiamo passando in mezzo alle dovine. Eccoci qua ragazzi, dopo un anno stiamo sempre qui. Dove stiamo pure? A Firenze. Stiamo facendo una bella passeggiata Poliporta. Adesso ci avviamo verso il centro, siamo appena arrivati con il treno alla stazione e adesso stiamo andando a fare una bella passeggiatina. Ci vediamo tra un pochettino, a prenderci un altro caffè, dato che oggi facciamo un piccolo sgarro alla dieta che abbiamo cominciato solo ieri. Già cominciamo con gli sgarri, va bene. Ci vediamo tra un pochettino. Ragazzi, stiamo intanto sopra la cupola di il Duomo di Firenze. Adesso dobbiamo fare tipo 8000 sgarri. Sì, così. Saranno usati un sacco di strani, però possiamo vedere che questa volta, la qua non ci sono mai usati. e quindi questa è una cosa che mi piace di fare così facciamo questa cosa si scattiamo un pochettino a dopo ci vediamo sulla cucina ciao 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 grazie a me grazie a me dolpen grazie a me 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 Battistaro che neanche si vede Battistaro sta lì piccolo piccolo ecco qui ragazzi questo è praticamente l'hotel dove abbiamo pernottato l'altra volta e praticamente lì giù c'è Piazza della Signorina qui c'è la Rinascente qui dietro e lì invece c'è Piazza del Duomo bellissimo adesso Andrea ci racconta quello che abbiamo scoperto che ha chiuso il nostro ristorante preferito era noi uno dei motivi per cui siamo voluti ritornare a Firenze perché avevamo trovato un ristorantino che non era niente male abbiamo però scoperto purtroppo martedì è chiuso e oggi che giorno è? è naturalmente martedì martedì quindi diciamo che è stato abbastanza un trauma questa cosa anche adesso è un po' spiazzato nel senso ora dove andiamo a mangiare però naturalmente siamo a Firenze sicuramente qualcosina di buono lo troviamo in giro e oddio aiuti piccioni ok e saluto amore e adesso andiamo a fare un giro andiamo a Piazza della Signoria siamo appena stati su il Duomo e sulla cattedrale una faticata assurda faticata assurda a parte che vedo un negozio della Mac ahhh dopo ce lo facciamo un giro di shopping dopo shopping ok e nulla va bene noi ci aggiorniamo tra un pochino e poi qui ci sono siamo arrivati a Piazza della Signoria quella è la stanza direttura se non mi rivede se non erro Allora ragazzi, ecco svelato il segreto della mia infanzia, questo era il lavoro che volevo fare quando ero grande, la polizia per cavallo. Amore, chi mi dice riguardo? Eh? Cosa dice riguardo? Ma lo vedevi fare? Eh no, ogni volta che li guardo mi viene sempre, mi emoziono sempre perché era praticamente il mestiere che volevo fare io da grande. Amore, dove stiamo? Stiamo degustando un vino, è un Chianti Classico del 2014. E' buono, ci piace? E' buono. E' molto molto buono. Ora ve lo scorreremo tutto quello che ci siamo presi. E' molto calma. Molta calma, molto calma, guardate, è veramente carino, è fatto con i tappi. E' tutto fatto con i tappi. E' tutto fatto con i tappi. Allora, amore, facciamo miseria adesso. Allora, noi siamo appena usciti al ristorante. Buono, ottimo. Buono, buonissimo. Spende un pochettino, però. Spende un pochettino, però. Siamo andati a questo ristorantino leggermente, diciamo, un po' più fuori di Ponte Vecchio, da questa parte qui. Spende un pochino, però abbiamo mangiato molto, molto bene. Devo dire, ottimo vino, ottima carne, ottimo primo e ottimo antipasto. Esatto. Io perché ho mangiato un primo. E adesso andiamo a fare un bel giretto. Forse ci scappa anche un pochino di shopping, vero amore? Paga lei, sì. Tanto è uguale. Ecco, c'è ancora qui, ragazzi. Sì, è fatta a notte. Sì, è fatta a notte, ma in realtà sono solo le 5 meno 4, non so. Quali sono i numeri? 5 meno niente. Ah, 2 meno niente, ok. Io direi di andare a fare altre 150 scale per vedere anche di notte Firenze. No. Sì, direi proprio di sì. Sì. No. Sì. No. Sì. Mi sono fatti oggi una volta, ma non me li faccio più. Proprio Firenze di notte è bella. Sì, nessuno lo mette in dubbio che Firenze di notte è bella, ma no. Io non ce la faccio. Ma lo sai che desera poco ciò cosa fa? No, penso di no, amore. Ma vuole essere ripreso. Allora, inizia a fare fresco. Riprendo un po' che fino, la Firenze non è. Ho fatto anche un po' di fatti. Ho fatto pure poco poco shopping. Poco poco shopping è una piotta. Che se so, lei è una di alta classe, capito? Du busto è una piotta. Mi faccio una stanchina. Eh sì. È bello che ti aspetta un'altra d'ora e mezza per diventarti seduta. Ciao, ciao. Amore, ma l'abbiamo detto oggi, per quale occasione siamo venendo di qui a Firenze? Ma dico io. Lo dico io che è quale occasione. Due anni di sopportazione di lei. Bellissimo. Goodbye. Per lei. Per lei. The My Woman. An excellent girl. Amore. Ti abbiamo visto in Il Via dei Casseguoli da Poin. Una make-up dal nome. Megapartist. Megapartist. Di YouTube. Come si chiama? Eh non lo so, sai te. Non lo so. Te lo dici adesso? Sempre lo spotter. Ceril? Ceril. Pandemonium. Pandemonium. Per lei.